Agente traditore rilevato Alveare nido di vespe, traditore rilevato Alveare nido di vespe, nemico rilevato Mina a ricerca, esplosione aerea, traditore rilevata Mina a ricerca, esplosione aerea, nemico rilevata Lanciatore chimico attivo Alveare nido di vespe, traditore rilevata Agente a terra Parametri vitali assenti Grave trauma rilevato Grazie 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 Questa corazza non serve più a nulla, mai figo Agente traditore eliminato